今日の福音に現れるこのマッツーリ マッツーリは天makuのマッツーリでしたね 今でも 石ukaの間に このマッツーリを 祝うために ユダヤ人たちが マクイアね 前に立て そちらに住むことになる tomaru tomaru neru ということね beranda niva とか barconi niva とか niva niva なぜかというと あれの歩んだ その40年の 思いで 記念です その 不安の時代 面白い この祭りの間には つまり不安を思い起こす そして不安を感じたときには 神がずっと 計らってくださった Suoi Che iken O Iwau Tame ni Iesus Cristo Ga Iesus Cristo Va Jibun ga Katteni Kora Retano Deva Naku Se iambrogio Ga Ittatori Melchise Deke No Yoni Kare No Sonsai Kare No Identity Va Niku De Vakaranai Niku Dake De Iesus Va Messia Deある Toいうことを 認めることは できません Kare Nii Hapar Mui 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 Kare Do Kare 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 Eesus Kare 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 Mer Kare 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 Non è possibile 人間関係 今日は大丈夫 明日分からない 明日 相手は私に反対する あるいは私が 悪い気持ちで 彼が 彼女が 他人が 何かしていたら 私はどういう リアクションがある ということは分からない 本当に 自分も分からない 相手も分からない だから イエスクリストは 兄弟を通して 私たちに 現れます 奇跡 Ma il momento di cui si tratta di scoprire il mio, come si tratta di scoprire il mio? Paolo, Paolo, come se tratta di scoprire il mio? Il mio più piccolo di scoprire il mio, come si tratta di scoprire il mio? Diciamo che noi stiamo in quanto riguarda la Crescente e la Crescente e la Crescente e la Crescente. Inoltre sulle le perdite il senza peguo. Noi sono né, noi sono disattività. Tutte le persone che sono le scoperte delle sue disattività. Noi ci sono magari di un'impatente. Siamo in una città che i suoi disattini. Il gioco in questo puesto. Non è vero, non è vero, non è vero. Seifu ku Seifu ku ku ru quea Seifu ku ku ru bir et rede Melioru Is罵 Cristo Isimulassare o истil centralscene Green Loi Aite O Uncici Karah Subete O tripod Ab��는 Aite Aunty Aite O becchiei eoo eoo piacere Cristo è vivi e e ok tanto che perchè questo sembra per che è l'aria e ci sono Questo è il dei 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 deli. Cristo è io e 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 io